lunedì 7 agosto video 33 rassegna stampa breve naturalmente a tutti voi un buongiorno e un buon inizio di settimana fine settimana che è stato caratterizzato come vedremo nelle aperture dei quotidiani locali dal cattivo tempo dai danni che si sono registrati in alta pusteria ma appunto adesso con l'aiuto della regia e di max moro andiamo a vedere la webcam e la situazione di questa giornata andiamo a vedere la webcam che sull'abitato di bolzano una splendida alba che segna appunto un cielo che dovrebbe rimanere sereno per tutta la giornata ma questo ce lo dirà nello specifico il meteo della provincia di bolzano che ci dice che c'è un influsso di alta pressione con correnti sub occidentali il tempo di oggi il giorno porterà tempo molto solleggiato con nubi alte in transito nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo la temperatura massima raggiungerà sarà tra i 24 fino ai 32 gradi ma adesso vediamo le aperture dei nostri giornali come dicevamo quelli locali è dedicata al maltempo alto adige che dice notte di disastro e paura pusteria martoriata fino all'alba da frane allagamenti ed evacuazioni lo si vede nella foto poi ampie pagine all'interno dolomitten battaglia contro fango e contro acqua e fango anche qui una esplicativa foto dei soccorritori che hanno lavorato per liberare appunto strade e e masi appunto dal dal fango lottando appunto anche contro la pioggia quotidiani nazionali corriere della sera inchiesta sugli appalti pilotati consi ppm turbativa d'asta morando manager cambiati nessun passo indietro il patto a tre legato a commesse per 2,7 miliardi verifiche sui mancati controlli e infine il sole 24 ore degli avvocati alle farmacie una spinta alle aggregazioni regole differenti per categoria coinvolti oltre 500 mila professionisti e adesso in chiusura andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti da non perdere 20 agosto festa della birra a racines sempre il 20 agosto alla malga gomp ci sarà festa con di altissima qualità per quanto riguarda la musica e la cucina si chiude qui questa rassegna stampa breve di video 33 a tutti voi una buona giornata e un buon inizio settimana a